e tutto l'ingresso di seconda classe ragazzi è stato messo con le parti in argento mi raccomando ragazzi fate molta attenzione perché è facile sbagliare questo è il lavoro piuttosto lungo e adesso ci fanno montare anche il resto qui al quarto fumaiolo le parti in argento da quest'altra parte quindi continuiamo a fare questo lavoro che è abbastanza lungo come potete vedere però prima di fare questo lavoro ci fanno fissare in poche parole l'ingresso di seconda classe e ce lo fanno fissare con due vite hp quindi in poche parole adesso andiamo a prendere le due viti ecco qua che ho preso le due viti hp e adesso lo andiamo a fissare ragazzi mettiamo bene la camera e andiamo a fissare l'ingresso di seconda classe perfettissimo e abbiamo fissato anche l'ingresso di seconda classe sul ponte lance adesso ci fanno continuare a mettere le strisce argentate sul quarto fumaiolo eccolo qua andiamo a prendere e vado a continuare a mettere le altre strisce argentate rimanenti sul quarto fumaiolo che ragazzi il quarto fumaiolo lo abbiamo tappezzato tutto d'argento adesso vediamo un po' cosa ci fanno montare dobbiamo andare a prendere un bioadesivo applicate l'adesivo 8 sulla parete dei fondi posizionate una striscia 61L al centro della scheda led quindi andiamo a prendere uno di questo e lo mettiamo al centro della scheda led andiamo a prendere un bioadesivo e lo applichiamo nella parte centrale ragazzi perfettissimo anche questo è stato fatto ora andiamo a prendere la sala fumatori che sarebbe questa qui ragazzi ops è caduta la camera e praticamente andiamo a far passare la striscia il cavo led qui dentro ok e adesso lo andremo a fissare ragazzi mettiamo mettiamo la camera qui e praticamente ce lo fanno andare a mettere dobbiamo far passare il cavo in questa parte perfetto e adesso ce lo fanno fissare con delle viti a P a 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